Siamo all'oratorio San Cristoforo di Fano dove oggi si è celebrata la giornata conclusiva di non spreco a scuola, la parte didattica del progetto non spreco. Siamo con il maestro Giorgio Caselli che ha curato i laboratori che hanno portato alla creazione di tutta una serie di canzoni su questo tema. Come avete lavorato Giorgio? Siamo partiti da un tema iniziale proposto da Elisa, Elisa Vilancioni. Lei ha lanciato degli input, quindi dove, quando, chi, come, perché, delle domande a cui io nelle settimane successive ho rimesso altri input, chiaramente lavorando con la musica perché tutti gli input venivano dati giocando con la musica etnica, con la musica classica e da lì sono venute fuori delle macro storie erano inizialmente, da cui abbiamo estrapolato dei testi. Dove è stato possibile ho anche cercato di mettere insieme, chiaramente ho spiegato ai bimbi cos'è una canzone, chi non lo sapeva. Ho cercato di prendere, di far comporre ai bimbi proprio la melodia e nel corso dell'anno, contando che ci si vede una volta alla settimana e anche no, pian piano il testo, la musica, i balletti, le coreografie hanno preso forma. Poi, visto che uno dei temi importanti, fondamentali, è quello degli imballaggi che ci portiamo a casa, in qualsiasi posto andiamo ad acquistare delle cose, delle cibare, oggetti, gli imballaggi, quindi siamo pieni di cose da riciclare, ci siamo vendicati degli imballaggi, quindi abbiamo preso gli imballaggi e prima di riciclarli di nuovo li abbiamo, adesso stavo per dire massacrati, li abbiamo suonati, perché i bambini veramente li hanno massacrati, li abbiamo suonati mettendoci delle cose, delle piccole cellule ritmiche nelle canzoni, quindi abbiamo fatto canto e ritmo insieme. Quindi la musica, la scrittura dei testi come mezzo pedagogico per trasmettere un messaggio, l'impressione che hai avuto è che sia arrivato il messaggio? Sicuramente sì, chiaramente poi abbiamo adoperato YouTube, libri, interviste, sì, ho visto che anche in persone che già conoscevo e che persone come me e come tanti altri, non spreconi, attenti al frigorifero, alla macchina, a chi viaggia metano, nella canzone o nel progetto hanno trovato anche un qualcosa, come diceva la canzone, non ci avevo pensato e chiaramente alcuni sono rimasti spreconi e rimarranno spreconi, però molti hanno avuto quel qui di in più per andare avanti poi con i bimbi. Mi è piaciuto molto il proverbio che ho detto ai bambini che ha riportato ai loro genitori, un proverbio indiano, scritto prima che arrivassimo noi bianchi, che diceva, noi indiani, non abbiamo ereditato la terra dai nostri avi, ma abbiamo preso in prestito la terra dai nostri figli e loro lo dicevano quando ancora avevano le praterie e i bisonti e noi eravamo ancora in Europa e ho visto che abbiamo colto nel segno, abbiamo colto nel segno. Speriamo, insomma, un seme lanciato alle generazioni future che in qualche modo ritorna in casa, perché poi sappiamo che questi bambini tornano a casa, tormentano i genitori. Tormentano, è vero, sì, sì, tormentano. Chi ti ferma per strada, chi magari un po' delle volte scocciato, però delle volte, poche volte scocciato, ma in maniera buona, però sicuramente il seme, il semone è stato, il super seme è stato seminato. Va bene, grazie mille. Arrivederci. Però sono accesi i microfoni, tranquilli. Vedrete che io e i bambini faremo una sfida, perché io gli farò qualche scherzetto. Chi suona qui? Fate sentire chi suona qui? Chi suona qui? Quindi faremo questa scommessa, là su in cima ci sono due telecamere, voi vi accorgerete che sbaglia, poi vediamo il filmato, i genitori pagheranno pizza per tutti. Ok, ripeto. Pagher. Pagher evidente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le parole si capiscono benissimo, giusto? Quindi perché dopo il ritornello, la seconda volta l'ho cantato anche voi, giusto? Qualcuno ha fatto eh? Bravi, vi voglio bene. Grazie a tutti. La natura restare pulita e la tua salute sarà garantita. Non si capiscono nessuno di solita scuola città. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.